Ehi Lura, ragazzi, Mavala, su un camion della camera bianco-rossa, faccio finalmente un nuovo video sugli ultimi aggiornamenti in casa Piacenza Calcio. Allora, per quanto concerne il calcio in mercato, ci sono stati, diciamo, nell'ultima settimana alcuni arrivi sicuramente interessanti, per esempio parliamo di Francisco Sartore, dal Trapani, mi sono preso anche qualche appunto, stiamo parlando di un'ala destra naturale, stando a quello che dice comunque il sito di Transfermarkt, dal Trapani, un giocatore che ha giocato circa una ventina di partite lo scorso anno e ha messo a segno una rete. Sicuramente si tratta di un giocatore che ha fatto, che ha giocato in una squadra che ha vinto il campionato, quindi ci aspettiamo ecco che venga con un po' di mentalità perlomeno. Un giocatore sicuramente interessante, un 29enne, che potrà permettere di arricchire ancora di più quello che è il reparto offensivo del Piacenza, che attualmente è uno dei, probabilmente, quello più, quello sulla carta, almeno il più attrezzato e prolifico dell'intero girone, perché davanti abbiamo gente come Recino, abbiamo Manicone, abbiamo Doria, abbiamo appunto Sartore, abbiamo diversi giocatori che abbiamo un bitiene, insomma abbiamo diversi giocatori che potenzialmente potrebbero essere titolari, quindi anche Iocolano come trequartista, insomma stiamo parlando di una squadra che davanti è veramente super attrezzata. Per quanto riguarda invece un innesto che c'è stato a centrocampo, parliamo di Sandarpia dalla Feral Pissalò, che la scorsa stagione se non sbaglio ha giocato all'Ostia in Serie D, un giocatore abbastanza molto alto, un mediano che comunque potrà dire la sua, ecco, anche qui come alternativa nella fascia mediana. Quindi attualmente stiamo parlando di un Piacenza con un reparto offensivo, probabilmente di altissimo livello, anche qualcuno dice, ma mi azzardo dire anch'io, da media Serie B, è vero anche che l'età media è abbastanza elevata, perché con giocatori come Recino che ha 36 anni, Iocolano che ne ha 34, insomma stiamo parlando di giocatori sicuramente molto esperti, che speriamo che non abbiano acciacchi, ecco, questo è l'unica cosa che tutti ci auspichiamo. A centrocampo sicuramente siamo intervenuti bene, non abbiamo però attualmente un giocatore come poteva essere il Cazzamali di turno che faceva il devasto a centrocampo, spezzava il gioco avversario nell'anno in cui abbiamo stravinto il campionato di Serie D, quindi forse a centrocampo e anche in difesa siamo un po' leggerini, non altissimi, mi aspetto però che questa squadra possa dire la sua e possibilmente, ecco, perché ce l'auspichiamo tutti anche se non sarà scontato, cercare di vincere il campionato nonostante avversari come Ravenna, Pistoiese, già ne abbiamo parlato ecco negli scorsi video. Poi per quanto riguarda invece i prossimi appuntamenti, anzitutto ieri c'è stata l'inaugurazione del nuovo fan club, ecco, Orgoglio Biancorosso, è sicuramente una bellissima notizia per la crescita del nucleo di tifosi qui nel nostro territorio, c'è stata anche l'inaugurazione ufficiale delle Bertocchi, anche se abbiamo già potuto ammirarlo, sebbene la stortura della copertura a metà già nelle amichevoli estive, poi stasera ci sarà la festa Biancherusse allo Stadio Garilli a partire dalle ore 18, e purtroppo nei giorni scorsi c'è stata anche la tristissima notizia della morte di Marco Ponghellini, il Ponghe uno dei lanciacori dei tifosi più amati della nostra curva, quindi un addio che ha colpito anche me, che non lo conoscevo personalmente, ma che è stata sicuramente una tristissima notizia, quindi faccio le mie condiglianze anche alla famiglia, e speriamo anche che la squadra possa onorare al meglio questo campionato, anche ricordando lui, ricordando anche tanti altri tifosi come i fratelli Reboli, e come tanti altri che ci hanno lasciato negli ultimi anni. Per tale motivo domani comincia la nostra stagione di Piacenza con l'esordio in Coppa Italia di Serie D contro il Fanfulla a Lodi, purtroppo non potrò essere presente, e sarà quello di settembre e anche l'inizio di ottobre un mese abbastanza difficile per quanto mi riguarda, perché avrò praticamente tutti i weekend occupati, quindi spero di poter guardare quante più partite possibili, quindi ve lo dico in anticipo, così che anche voi mi potrete un po' aggiornare anche in base alle partite che vedrete, guardatela anche per me, grazie. Detto ciò, quindi un piace che si prepara ad un esordio in Coppa Italia, non è la competizione dei sogni, però sicuramente può dare qualche vantaggio anche, per quanto riguarda poi lo schieramento dei ripescaggi, anche se si spera di non averne bisogno, quindi speriamo di vincere questo campionato anche se sarà difficilissimo, ad ogni modo voi che andrete poi mi racconterete la partita per quello che avrete visto, io farò solamente un commento probabilmente lunedì mattina, e niente, quindi queste sono le ultime notizie riguardo al mondo del piace, abbiamo anche già parlato dell'addio di Bassanini, il quale ha poi voluto lasciare un bellissimo video di addio, una lettera molto sentita, veramente molto bella, molto commovente, e gli auguriamo tutti il meglio, anche se ci avrebbe fatto sicuramente piacere che rimanesse un altro anno, soprattutto perché diciamo che un giocatore come lui, col suo talento, con la sua giovane età, ci avrebbe fatto veramente molto comodo, ad ogni modo gli auguriamo tutte le nostre, le sue, insomma, gli facciamo tutti i nostri migliori auguri, gli auguriamo le migliori fortuna. Quindi vi aspetto qua sotto nei commenti, fatemi sapere la vostra, ci vediamo domani, no non è vero che ci vediamo domani, ci vediamo lunedì, per il video commento, la partita del piace, poi farò anche un video commento, probabilmente nel pomeriggio di lunedì, per quanto riguarda invece la partita della Fiorentina, visto il nuovo format del canale, ci sentiamo molto presto, sempre forza piace, vi aspetto, tutti uniti verso l'obiettivo, che è quello di questa benedettissima Serie C. A presto.